All'alba il varo della manovra finanziaria, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio che dà il via libera al contributo di 40 milioni per il Comune di Potenza, ma anche incentivi per il comparto agricoli, i trasporti, la viabilità e anche sostegni a famiglie, giovani e imprese. Sinergie tra pubblico e privato per capitalizzare le risorse a disposizione e garantire sviluppo e occupazione alla regione contrastando la fuga dei giovani, sono stati questi i temi al centro dell'Assemblea della Federazione Lavoro e Servizi di Conf Cooperative Basilicata che si è svolta a Potenza. L'emergenza cinghiale e le nuove iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio zootecnico lucano al centro di un confronto a Potenza nella sede della provincia con gli ambiti territoriali di caccia e se le controllori. Sport torna in campo oggi pomeriggio il Francavila nella semifinale playoff di calcio di serie D, i sinici affronteranno a Fittipaldi la Nocerina e nella serie C Silver di Palacanestro, gara due dei quarti di finale playoff tra l'Accademia Potenza e il Cagliazzo. E il Potenza guarda al futuro dopo un periodo di forti fibrillazioni, l'Associazione 1919 fa chiarezza al suo interno e sposa il progetto di cessione delle quote dell'ex patron caiata del Potenza Calcio al gruppo Macchia. Buon pomeriggio dallo studio della nuova TG per ritrovati a questa prima edizione del nostro telegiornale, dunque lo abbiamo sentito dai titoli, finisce l'esercizio provvisorio in regione e il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio dentro il contributo anche di 40 milioni di euro per il comune di Potenza. Ma ci sono anche incentivi per il comparto agricolo, i trasporti, la viabilità e anche per le famiglie, i giovani e le imprese, come ci spiega Celestino Benedetto. Dopo due giorni intensi ed una maratona conclusasi alle 6 del mattino, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la manovra finanziaria per il triennio 2022-2024 che contiene la legge di stabilità regionale e il bilancio previsionale. 13 voti a favore, tutti quelli della maggioranza, per il via libera al testo che contiene anche le risorse iscritte per realizzare il PNRR nei sei assi. In materia agricola 9 milioni di euro per fronteggiare i costi di gestione aziendale delle imprese anche per effetto della crisi economica internazionale. Sul fronte degli enti locali al comune di Potenza andranno i 40 milioni promessi per evitare un nuovo dissesto, 3 milioni invece agli altri comuni che dovessero trovarsi in situazioni di squilibrio finanziario, analoga a quella del capoluogo. Tra le misure stanziati anche 200 milioni per il trasporto pubblico locale, 68 milioni per l'Università della Basilicata con una misura ad hoc per il supporto della Facoltà di Medicina, 2 milioni per ciascun esercizio di bilancio per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa ed un milione per l'istituzione dei piani integrati della cultura. E l'approvazione della manovra finanziaria regionale trova il consenso della Coldiretti Basilicata per l'approvazione di misure e finanziamenti straordinari per il mondo agricolo per circa 9 milioni di euro. Settore più penalizzato di altri, spiega il Presidente Pessolani, dall'aumento speculare del 170% del costo dei mezzi tecnici per produrre prodotti agricoli. Le battaglie sindacali di piazza e i negoziati dei giorni scorsi messi in campo hanno dato i primi risultati, evidenziano Pessolani e il direttore regionale Aldo Mattia, che auspicano la convocazione a breve da parte dell'assessore regionale dell'agricoltura Cupparo del Tavolo Verde per provare ad accelerare lo stanziamento delle risorse e almeno mettere in campo un tentativo di condivisione comune di come spalmare su tutto il territorio e i settori agricoli più colpiti le risorse. Spiace però, ribadiscono i vertici della Confederazione, che nonostante la Coldiretti Lucana da gennaio abbia messo in campo assemblee di base, manifestazioni di proteste negoziate, purtroppo soltanto alla fine di maggio viene decretato un sostegno quando in campagna gli agricoltori hanno già investito le loro ultime risorse economiche. Sinergie tra pubblico e privato per capitalizzare le risorse e a disposizione garantire sviluppo e occupazione alla regione, contrastando la fuga dei giovani. Sono stati questi temi al centro dell'Assemblea della Federazione Lavoro e Servizi di Conf Cooperative Basilicata, che si è svolta a Potenza. Isabella D'Andrea. Al centro ci sono le sinergie tra pubblico e privato e le sfide che attendono tutti i settori esigono un'intesa concreta, per non fallire. In sintesi è questo il tema su cui si è dibattuto nel corso dell'Assemblea regionale della Federazione Lavoro e Servizi di Conf Cooperative Basilicata. L'evento, che si è svolto a Potenza nella sede del CONUNIBAS, Consorzio dell'Università degli Studi della Basilicata, è stata l'occasione per il rinnovo degli organi sociali della Federazione. Transizione digitale e sostenibilità, il lavoro cooperativo verso l'innovazione, il tema scelto per questa edizione dell'Assemblea, che ha visto la partecipazione di Massimo Stronati, Presidente nazionale Conf Cooperative Lavoro e Servizi. Che usciamo da una fase, come lei ha detto, di grande crisi, di difficoltà della pandemia, ma anche della guerra. I costi energetici, come sapete, sono arrivati alle stelle. Noi, come Conf Cooperative, abbiamo un ruolo importante a mettere in piedi le sinergie del territorio per poter sviluppare azioni molto concrete del lavoro, soprattutto quelle che oggi vengono fuori dai progetti regionali e comunitari e soprattutto anche per quanto riguarda il Superbonus, il Sisma Bonus e il Lega Bonus. Nella relazione presentata dal Presidente Lapadula sull'operato della Federazione nel quadriennio 2018-2022, evidenziati i cardini dell'azione messe in campo sino ad ora e gli obiettivi a cui tendere per scongiurare la fuga dei giovani lucani e garantire un futuro alla Regione. Noi abbiamo una grande necessità a livello regionale, quella di mettere in piedi una sinergia fra l'ente pubblico e l'ente privato. Ovviamente senza di queste sinergie è difficile organizzare il mondo del lavoro in modo concreto perché abbiamo la necessità di concretizzare i programmi di sviluppo del territorio e soprattutto dobbiamo anche regimentare le sinergie dei nostri giovani. Noi abbiamo una grande responsabilità, quella di evitare di mandare via i giovani da questa Regione. I saluti istituzionali sono stati affidati al Sindaco di Potenza, Mario Guarente, presenti vertici delle altre realtà cooperative lucane con i quali è stata condivisa la necessità di un'azione comune con gli enti istituzionali locali. Senza l'appello di supporto alle istituzioni secondo me non c'è storia. Noi abbiamo la necessità di rivedere il ruolo di questa Regione, soprattutto il ruolo dei progetti di sviluppo perché non è possibile che una Regione Basilicata, così come oggi è messa, la dice molto lunga. Noi abbiamo proprio la voglia di fare, di metterci intorno a un tavolo, di costruire un patto di nuovo sviluppo. Si terrà venerdì prossimo nel polo bibliotecario di Potenza una giornata di dibattiti, analisi e programmazione interamente dedicata all'universo dei nit lucani, giovani che non studiano e non lavorano. L'iniziativa è promossa dalla SRL XEO Lab e dall'ARLAB, l'Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento. Con la collaborazione della Regione Basilicata, al vaglio i progetti promossi in ambito transnazionale al fine di aumentare la conoscenza dell'impatto delle politiche esistenti per il lavoro giovanile e fornire raccomandazioni politiche per indirizzare gli strumenti di programmazione anche in ambito locale. Un focus sarà posto sui settori economici resilienti come ad esempio l'economia sociale, la produzione agroalimentare e l'economia circolare. I giovani e le imprese lucane coinvolte nel programma racconteranno della loro esperienza e le istituzioni regionali al contempo renderanno note le strategie di follow up in materia di sostegno all'occupabilità. Ci occupiamo ora dell'emergenza cinghiali e delle nuove iniziative di tutela e di valorizzazione del patrimonio zootecnico lucano che sono state al centro di un confronto a potenza nella sede della provincia. Con la partecipazione degli ambiti territoriali di caccia e dei sele controllori, sentiamo cosa è emerso nel servizio di Alessandro Panuccio. Visto il diffondersi della peste suina sul territorio nazionale, la cresciuta consapevolezza del pericolo ambientale e di salute pubblica derivante dalla presenza urbana dei cinghiali, l'emergenza è approdata sul tavolo della provincia di Potenza per discutere insieme ai cacciatori e ai sele controllori di tutela sanitaria del patrimonio zootecnico lucano. Siamo qui per discutere della vigilanza volontaria che oltre ad offrire un servizio di vigilanza sul territorio, fa anche un servizio di monitoraggio per quanto riguarda la specie cinghiale e saranno utilizzate anche per monitorare le carcasse, se si trovano le carcasse sul territorio di cinghiale per la peste suina. E' un servizio a tutela dell'ambiente. Dei rinforzi utili al contenimento di un'espansione ormai incontrollata. Queste unità affiangono la polizia provinciale, il servizio è coordinato dalla polizia provinciale, affiangono la polizia provinciale che vengono coordinato dalla polizia provinciale e svolgono un servizio sul territorio di vigilanza venatoria. Anche perché senza i giusti mezzi per salvaguardare le produzioni agricole e l'ambiente potrebbe aggiungersi un problema di ordine pubblico e sicurezza. I cinghiali stanno devastando in modo particolare le colture agli agricoltori. Il problema però principale nella nostra regione è molto sentito, sono i parchi che attualmente i cinghiali, un animale molto furbo, si rifugia nei parchi. Tranne il parco del Pollino che ha attivato delle attività a caccia di selezione e girate, gli altri parchi della regione non si sono attivati, non ci sono né selecontrollore né girate. L'unica attività che si è fatta nell'Oasi di protezione di Morolucano, grazie all'amministrazione di Morolucano e all'ATC numero 2, in coordinamento con la regione e la polizia provinciale, si è fatta per due mesi un'attività di controllo nell'Oasi di Morolucano e nelle altre zone protette non si fa niente. Blitz dei carabinieri nel Materano che hanno rinvenuto cumuli di rifiuti abbandonati, lungo le strade provinciali. L'arma della stazione di Monte Scaglioso ha agito in accordo con l'amministrazione provinciale di Matera. Una squadra di operai della ditta affidataria dei lavori ha rimosso alcuni rifiuti abbandonati sulle strade provinciali 3, 15 e 31, tutte ubicate nel territorio del centro montese. Nel corso dell'operazione di bonifica sono stati individuati alcuni presunti responsabili dei quali verranno notificate le sanzioni che saranno poi elevate. Territorio passato al setaccio dei carabinieri della Compagnia di Potenza che nel weekend scorso hanno eseguito una serie di controlli nelle vie del centro storico del capologo Lucano e nel territorio di Lago Peso, le frazioni di Avigliano. A Potenza in tre sono stati sorpresi in possesso di modiche quantità di stupefacente del tipo Ashish e si è proceduto con il sequestro della droga e la conseguente segnalazione alla locale autorità giudiziaria. Una persona è stata inoltre deferita in stato di libertà poiché trovata in possesso di una spada giapponese con una lama lunga a 64 cm nascosta in auto. Sanzioni pecuniari sono state levate in due bar per la somministrazione di bevande alcoliche a minori. A Lago Peso, le carabinieri con l'ausilio dei cani antidroga del nucleo cinofili di Tito, hanno svolto controlli nell'area fieristica dove sabato notte era prevista una festa. In questo caso tre ragazzi sono stati sorpresi in possesso di Ashish. Si è proceduto anche a deferire in stato di libertà una persona per guida in stato di ebrezza. Anche in questo caso, nuovamente riscontrata la somministrazione di alcolici ai minori degli anni 18 e sanzionati i gestori dei locali controllati. La linea ora va alla regia per una breve pausa. A dopo. La ITMSRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiave in mano di capannoni struttura metallica, il legno lamellare, cemento armato, celle frigorifera, duso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopra luoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 02 08 806. Riprendiamo il nostro Tg con la cronaca giudiziaria e l'inchiesta del DDA sul traffico di stupefacenti tra il Materano e la Calabria e sul riciclaggio del denaro provento dello spaccio che circa un anno fa portò all'esecuzione di 18 misure cautelari. La Cassazione ha confermato gli arresti per Giacomo Solimando considerato a capo dell'organizzazione pluripregiudicato e già in regime di restrizione per altri reati. La Suprema Corte ha analizzato i rapporti tenuti da Solimando con l'impresa agricola De Pascalis attraverso la quale veniva reinvestito il denaro sporco, respinto dunque il ricorso del cinquantenne turcitano difeso dall'avvocato Livia Lauria contro la decisione del riesame che ha confermato l'arresto eseguito a maggio dello scorso anno nel tentativo di sfuggire ai controlli che avrebbero fatto emergere la evidente sproporzione dei beni detenuti dall'arrestato costruì. Si sarebbe servito dell'azienda agricola con sede a Scanzano Ionico per acquistare in contanti utilizzando i proventi illeciti i prodotti agricoli e poi rivenderli come produzione propria, reati che saranno accertati nell'ambito del processo che comincerà a Matera il 16 giugno prossimo. Ed è slittata invece di due settimane la sentenza di primo grado relativa all'omicidio di Pasquale Grosso, il cinquantunenne pregiudicato ucciso l'otto ottobre del 2020 a Rapolla. Ieri mattina la Corte d'Assise di Potenza doveva dare spazio alle eventuali repliche prima di ritirarsi in Camera di Consiglio, ma l'udienza è stata rinviata al prossimo 7 giugno per l'unico imputato, il 38enne Reo Confesso, donato Antonio a Cuccella nella scorsa udienza al termine della sua requisitoria il pubblico ministero Vincenzo Montemurro aveva chiesto una condanna a 24 anni di reclusione secondo quanto ricostruito dagli inquirenti vecchi rancori tra Cuccella e Grosso il cinquantunenne aveva ucciso nel luglio del 2003 lo zio di Cuccella sempre a Rapolla ed aveva da poco finito di scontare la sua pena sarebbero riemersi nelle settimane precedenti il delitto quando i due avrebbero discusso animatamente almeno in un paio di occasioni è stata quella, secondo la procura, la miccia che avrebbe acceso il fuoco della vendetta nell'animo dell'imputato un campo di 6.000 metri quadrati dove autoprodurre energia con attenzione alla tutela dell'ambiente e al benessere dei lavoratori è il progetto di Itaci realizzato a Tito e inaugurato ieri come ci spiega Mara Risola una sfida che punta all'autosostenibilità energetica con riguardo all'ambiente ma anche al benessere dei dipendenti è il binomio alla base della strategia di Itaci Rail player internazionale da 30 anni con uno stabilimento nell'area industriale di Tito, nel Potentino dove produce segmenti elettronici nel comparto ferroviario la multinazionale ha inaugurato un campo fotovoltaico di ultima generazione di 6.000 metri quadratico finanziato al 30% da un bando della regione che coprirà fino al 60% di energia elettrica con relativo taglio di emissione di CO2 di ben 325 tonnellate produciamo massimo 500 kilowatt per ore con una produzione media annua di 300 e 700 megawatt questo è un impianto di scambio sul posto cioè tutto quello che noi produciamo lo consumiamo direttamente quello che in eccedenza lo versiamo all'interno della rete Enel e l'Enel quando ci occorre ci riderà indietro i kilowatt che abbiamo prodotto l'attenzione dipendente è invece l'obiettivo alla base della realizzazione di 22 orti aziendali dove i lavoratori e i loro familiari potranno coltivare e produrre in autonomia prodotti della terra la vicinanza dipendente è un elemento fondamentale ma ovviamente anche il green che si sposa in particolare qui nel sud perché la riduzione delle distanze passa attraverso gli investimenti in alta tecnologia come questa che è la prima che i ritaci in Italia realizza ma che credo continuerà a mantenere come obiettivo fondamentale per i prossimi anni l'obiettivo è quello di creare un'amalgama soprattutto con i dipendenti fra dipendenti e azienda e anche con le proprie famiglie come il caso degli orti aziendali in questo stabilimento un unicum in Italia accolto positivamente dalle istituzioni locali qui insomma viene realizzato un impianto che restituisce sicuramente benefici di tipo ambientali di tipo gestionali per quella che è l'attività che lo stabilimento Itaci realizza e contribuisce anche ad innovare un'area industriale che ha fortemente bisogno di accrescere le proprie infrastrutture energetiche spero che all'esempio di Itaci ne seguano tanti altri è un appuntamento importante perché se è vero che l'esempio traghetta poi tutti gli altri imprenditori questo è un bel esempio L'andamento della pandemia in regione in attesa del bollettino aggiornato gli ultimi dati diffusi dalla task force regionale fanno emergere un aumento dei contagi che portano il tasso di positività al 20% figurano inoltre altri due nuovi decessi che portano a quattro le vittime in soli tre giorni dopo una settimana di tregua all'ospedale San Carlo di Potenza hanno perso la vita nelle ultime 24 ore un 89enne di Atella e un 67enne di Noepoli che erano ricoverati in pneumologia sale così a 882 il numero delle vittime d'inizio pandemia più tamponi 1519 con 305 positività tra i residenti anche per via dei decessi calano ulteriormente i ricoveri 65 in tutto, 39 dei quali al San Carlo e 26 nel nosocomio di Matera un solo posto occupato in terapia intensiva sempre a Potenza ben 859, 141 dei quali nel solo capoluogo di regione i guariti che portano gli attualmente positivi sotto quota 28.000 per l'esattezza 27.966 siamo allo sport torna in campo oggi pomeriggio il Franca Villa nella semifinale playoff di calcio di serie D i signici affronteranno al Fittipaldi la Nocerina nella serie C Silver di Palacanestro gara 2 dei quarti di finale playoff tra l'Accademy Potenza e il Cagliazzo sentiamo Donato Valvano chiuso alla stagione regolare il Franca Villa torna in campo oggi pomeriggio nella semifinale dei playoff di serie D la formazione di Mister Ragno affronterà le 16 al Fittipaldi la Nocerina in virtù del secondo posto in classifica ottenuto in campionato rispetto al quinto dei rossoneri Nolè e compagni potranno giocare per due risultati su tre si gioca in gara secca in caso di parità al termine dei 90 minuti sono previsti i tempi supplementari in caso di ulteriore parità a passare il turno sarà la formazione Lucana la vincente della sfida di oggi pomeriggio affronterà la vincente dell'altra semifinale Bitonto-Fasano la finale è in programma domenica e qualora i signici dovessero passare il turno la giocherebbero nuovamente tra le mura amiche in serata ci sarà gara 2 dei playoff della serie C Silver di Palacanestro in campo l'Academy Potenza che dopo aver vinto il match di andata per 71 a 64 ha un piccolo vantaggio sul cagliazzo in caso di vittoria i potentini sarebbero qualificati alle semifinali in caso di sconfitta si andrebbe a gara 3 e l'Academy giocherebbe tra le mura amiche del Palapergola palla 2 questa sera al palazzetto di Teleseterme alle 20.30 e nel calcio di serie C restano accesi i riflettori sul futuro del club del Potenza dopo un periodo di forti fibrillazioni l'associazione 1919 fa chiarezza al suo interno esposa il progetto di gestione delle quote da caiata al gruppo Macchia sentiamo quella di lunedì è stata una giornata di grandi tensioni nelle file dell'associazione 1919 il possibile avvento del gruppo Macchia che ha presentato l'unica manifestazione di interesse per l'acquisto del Potenza il venir meno di determinate condizioni qualche incertezza sul futuro stesso dell'associazione hanno provocato inevitabili frizioni interne qualche tensione di troppo poi la notte ha portato consiglio una riunione per guardarsi in faccia e tirare una riga e capire quale possa essere la decisione migliore per il futuro del club rosso-blu il confronto tra le diverse posizioni ha prodotto una linea di pensiero comune almeno formalmente il sostegno è in toto e senza alcuna riserva alla cessione delle quote di maggioranza da Salvatore Caiata al gruppo Macchia una decisione che sembra andare verso una soluzione decisiva della trattativa di vendita delle quote di maggioranza del club e che fa anche un po' di chiarezza all'interno degli associati che sono stati i primi a contattare il gruppo Macchia nei giorni immediatamente successivi alla conferenza stampa di Caiata in cui il presidente annunciava la sua volontà di disimpegno dal progetto poi la fibrillazione infine il chiarimento grazie anche all'intervento risoluto dello stesso Caiata ora gli ultimi due punti interrogativi prima la relazione della due diligence effettuata dalla DLA Piper per conto del gruppo Macchia e l'assemblea dei soci del Potenza che darà il via libera all'operazione salvo sorprese la svolta epocale è a un passo poi ci sarà da programmare il futuro prossimo e soprattutto quello più immediato per garantire al Potenza un futuro più sereno questa dunque è l'ultima notizia si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale il prossimo appuntamento con l'informazione sulla nuova tv alle 17 con il nostro TG Flash prima della seconda edizione con il TG in studio alle 19 grazie per averci seguito a tutti voi un buon proseguimento di giornata